Abbiamo la fortuna di avere qui con noi Stefano Minoia che oggi ci parlerà di un argomento collegato all'accessibilità. Stefano Minoia si occupa di accessibilità a 360 gradi da parecchio tempo ed è la community WordPress dal 2018 e come curiosità canta in diversi cori e gioca a scacchi. Oggi ci parlerà appunto di tipografia fluida accessibile nell'editor a blocchi. Un applauso a Stefano. Grazie. Grazie Cristiano, grazie a tutti di essere presenti. Fatto, grazie. Ok, andiamo in giù invece che in su. Una nota prima di iniziare, nella presentazione sono presenti alcune animazioni per cui se soffrite di mal di movimento, disturbi vestibolari, vi avverto prima eventualmente che così evitiamo che stiate male. Di solito non le uso le animazioni proprio per evitare problemi di questo tipo, ma in questo caso erano utili e necessarie. E voglio ringraziare anche le persone che si stanno occupando dell'accessibilità dell'evento e che quindi si dispereranno come al solito per sottotitolare questa presentazione. Parliamo allora. Tipografia fluida. Cosa intendiamo per tipografia fluida? È una tecnica di progettazione responsive, in cui la dimensione del carattere, quindi la font size, essenzialmente ci concentreremo su questo oggi, ma anche altri attributi del carattere, potenzialmente ad esempio l'interlinea, la line 8, cambiano in maniera continua al variare della dimensione dello schermo. È un'alternativa all'utilizzo delle tradizionali media query, in cui le dimensioni dei caratteri invece cambiano in corrispondenza di specifici valori della viewport, i cosiddetti breakpoint. Vediamo un esempio animazione, attenzione. Fate attenzione da subito sotto l'esempio, qui sto allargando e qui adesso ho uno scatto per cui sono in corrispondenza di un breakpoint. Adesso c'è un altro scatto e quindi il mio carattere sostanzialmente in corrispondenza di questi punti va ad aumentare. Questa tipografia tradizionale con le media query. Nel caso della tipografia fluida invece quello che vedete è che man mano che io aumento la viewport, la dimensione del font, sia quella del titolo che quella del carattere, aumenta in maniera progressiva e in maniera in questo caso lineare per come l'ho creata io. Arriviamo fino in fondo, poi dopo riparte l'animazione, ma andiamo alla slide successiva. Fine delle slide con le animazioni, quelle violente. È andata bene. Cosa permette di fare la tipografia fluida? È una caratteristica che è stata introdotta nel CSS qualche anno fa, cioè l'introduzione delle lunghezze relative alle dimensioni dello schermo. Cioè l'introduzione di quattro unità di misura, VW, VH, Vmax e Vmin, che permettono di andare a definire le dimensioni degli oggetti presenti in una pagina in percentuale rispetto alla dimensione della finestra. Quindi un VW è un centesimo della larghezza della finestra. Quindi se una larghezza della finestra è di 800 pixel, un VW sono 8 pixel, due VW sono 16 pixel, quattro VW 32 pixel, dieci VW 80 pixel e così via a piacere sostanzialmente. Fine della parte di introduzione su che cos'è la tipografia fluida. Qui vi devo presentare in sostanza un amico che ci accompagnerà per tutta la presentazione, che è questo anonimo appassionato di accessibilità, che dopo aver scoperto l'esistenza della tipografia fluida, tre anni fa, due anni fa addirittura, si era detto ma la tipografia fluida è accessibile? Vediamo se è accessibile. Qual è il criterio guida? Esiste un criterio all'interno delle linee guida sull'accessibilità dei contenuti web, l'1.4.4, relativo al ridimensionamento del testo, che dice che il testo, con alcune eccezioni, deve poter essere ridimensionato fino al 200%, cioè deve essere possibile raddoppiarne la dimensione, senza l'ausilio di tecnologie assistive e senza perdita di contenuto e funzionalità. cosa significa senza l'ausilio di tecnologie assistive? Significa essenzialmente in quattro possibili modi, o andando a modificare la dimensione del testo tramite le impostazioni del sistema operativo, prima in alto, ultima in fondo, o inserire nella pagina un controllo per cambiare la scala del contenuto, cosa che io sconsiglio di fare perché richiede una quantità di lavoro pazzesca, secondo me, utilizziamo quelle che sono le impostazioni del browser, quindi ho la possibilità di andare a modificare la dimensione di base, oppure andare a utilizzare la funzione di zoom del browser che permette di andare a scalare il contenuto. Domanda, cosa succede quando cambio la dimensione predefinita? L'agnonimo non sa che cosa lo sta aspettando e in che cosa si sta andando a infilare. Ma allora qui vedete in sostanza che ho fatto una piccola animazione in cui vado a cambiare la font size, lo vedete nell'angolo in alto a destra, per cui passo da 16 pixel che è la dimensione predefinita del browser e vado ad aumentare e man mano che aumento, quello che verifico è che di per sé il mio testo aumenta di dimensione. Questo è quello che io normalmente mi aspetterei che succedesse, ma questo succede solo se uso delle unità di misura relative, quindi delle unità di misura che mi permettono di definire la dimensione della fonte, ad esempio, rispetto a altre caratteristiche, rispetto a delle caratteristiche intrinseche del carattere. L'unità di misura più utilizzata è la rem, quindi è sostanzialmente un'unità di misura che dipende dalla dimensione del font root, quindi in questo caso 16 pixel se non faccio modifiche, cambiando la dimensione della root font cambia la dimensione. Dove salta fuori il problema? Il problema è che noi abbiamo delle, di solito abbiamo a che fare anche con i designer che invece amano un'altra unità di misura che sono i pixel. E il problema è che i pixel sono dell'unità di misura assolute, per cui se voi andate a definire l'unità di misura, la dimensione del font, come in questo caso, a 16 pixel, il pixel sono unità di misura assolute, quindi è fissa. Anche se io cambio, come vedete che sta cambiando in realtà nell'angolo in alto a destra, la root font size, in realtà il mio testo non cambia di dimensione. Questo è il motivo per cui non bisogna andare a utilizzare le unità di misura assolute quando si fa tipografia, che sia fluida, che sia usando le media query, che facciate un sito web statico, non usate i pixel per la dimensione dei caratteri. Perché? Andate a impedire questo lavoro. La domanda a questo punto diventa, ma che cosa succede invece se uso l'altro sistema? Quindi se uso lo zoom? Beh, questo è quello che succede, è sempre una font size di un RAM e vado a fare lo zoom. Qualcuno sa tecnicamente che cosa succede nel momento in cui io faccio zoom premendo ctrl più o command più a seconda del vostro sistema operativo? Nel browser? Nessuno che prova? Non abbiamo molto tempo per cui non posso aspettare e non potete neanche cercare su Google. Come? No? Vi do un aiutino? Non vi do un aiutino perché la prossima slide svela il segreto in realtà. Quello che succede è che quando io faccio zoom, in realtà io vado a ridurre la viewport size e a scalarla proporzionalmente. Per cui ad esempio se io vado a fare lo zoom del 200%, io in realtà quello che ottengo è che dimezzo la larghezza della viewport size e poi raddoppio le dimensioni effettive. Questo è quello che succede. Qui c'era previsto un premio per chi avesse indovinato, ma non ha indovinato nessuno e quindi il premio me lo tengo io, che non c'era neanche in realtà. Vediamo un attimo che cosa succede. Allora, noi abbiamo detto che per fare tipografia fluida usiamo le viewport width, quindi una viewport width. Il problema dov'è? Che se io uso lo zoom, se io vado a ridurre la viewport width e la scalo proporzionalmente, in realtà se la font size è un centesimo di viewport width, non cambia assolutamente niente quando faccio zoom. Per cui in realtà la tipografia fluida utilizzando esclusivamente le viewport width non si può fare. L'anonimo a questo punto ha detto quindi non c'è speranza sostanzialmente di poter fare tipografia fluida in maniera accessibile. Sì, bisogna introdurre dei concetti nuovi. Il primo è la funzione calc, che è una funzione che permette di effettuare calcoli per stabilire valori di alcune proprietà CSS. Ad esempio posso andare a fare la somma di due lunghezze utilizzando l'operatore più e circondando l'operatore più da spazi. Qui ad esempio ho una font size dicendo che è uguale a calc e vado a prendermi sostanzialmente il buono che c'è nell'unità di misura rem e il buono che c'è nell'unità di misura vw. E li vado a sommare. Vediamo un piccolo esempio. Stessa cosa ad esempio su uno smartphone con una viewport di 425 pixel, io ho una font size che è uguale a 1 rem, usate che ho anche il puntatore, una rem qui, 16 pixel e poi 2 viewport width per cui è 2 diviso 100 perché è il 2% della viewport width, quindi 2% di 425 pixel e viene fuori 24,5 pixel. 1024 pixel, stessa maniera, la prima componente resta uguale, cambia la viewport width. Sto facendo tipografia fluida, all'aumentare della viewport width aumenta la dimensione del font. E questo è un grafico sostanzialmente che mi permette di descrivere che cosa succede utilizzando calc. Bene, cosa succede se vado a cambiare? Le domande c'è poco spazio forse alla fine per cui vado avanti e poi dopo eventualmente me le fate dopo. Cosa succede se io vado a cambiare la dimensione predefinita del font? Quindi se passo ad esempio da una rem di 16 pixel a una rem di 32 pixel. Beh, vado a fare i miei conti, tengo una viewport width di 425 pixel, se un rem è 16 pixel sono 24,5 pixel. Se un rem sono 32 pixel, quindi se raddoppio la rem, ottengo 40,5 pixel come dimensione. E non funziona, perché in realtà 40,5 pixel è meno del doppio di 24,5. Quindi in realtà non mi basta raddoppiare la font size, la rem, quindi la dimensione del carattere dell'elemento root, per ottenere un raddoppio effettivo della dimensione del carattere. Scusate, sono tornato indietro. E se faccio zoom, in realtà non cambia assolutamente niente, perché sto usando le rem in realtà. Per cui se qui va passo da uno viewport, da uno zoom del 100% a uno zoom del 200%, quello che succede è questo. Vado a dividere per 200% la viewport width e poi vado a scalare del 200%. Quello che ottengo è sempre una dimensione, se fate i conti, di 40,5 pixel. Non c'è speranza allora. No, in realtà c'è speranza, perché io devo raddoppiare la dimensione del font. Non devo fare lo zoom del 200%. Se io faccio uno zoom del 300%, in realtà ottengo una dimensione del font nuova di 56,5 pixel, che è più di 49 pixel, cioè del doppio di 24,5 pixel. Quindi si può ottenere a condizione di andare al di sopra del 200% come zoom. Ma quindi c'è speranza di riuscire a fare questa cosa? Sì, ma bisogna fare attenzione, perché in realtà i browser mi limitano comunque quello zoom massimo al 500%. E ringraziamo il fatto che Firefox sia passato negli ultimi due anni, anno e mezzo, dall'avere una zoom massimo del 300% a uno zoom massimo del 500%. Ipotizziamo di essere in questa situazione, per cui di avere una font size che è uguale a un rem più 7,5 viewport width. Al 100% è 73,6 pixel. Qui stiamo parlando di oggetti che sono molto grossi all'interno della pagina, per cui titoli o cose simili. Con uno zoom del 500%, la dimensione che ottengo è 137,6 pixel, che è meno del doppio. L'anonimo ormai non ha più parole, è pronto a rinunciare, ma in realtà cerchiamo di capire dove sta esattamente il problema. Il problema sta in due situazioni, sugli schermi molto piccoli e sugli schermi molto grandi. Sugli schermi molto piccoli il fattore che pesa di più è la dimensione dell'elemento root. Quindi se io uso un coefficiente della dimensione dell'elemento root che è molto piccolo, in realtà questo oggetto avrà un peso minore rispetto a questo. Mentre invece normalmente sugli elementi piccoli io voglio che sia il primo addendo che ha un peso maggiore. tenete conto anche di una legge non scritta dell'accessibilità che prevede che sui dispositivi mobili per i testi lunghi, diciamo, non si debba scendere al di sotto dei 16 pixel come dimensione del font. Ma è una legge non scritta, non c'è scritto da nessuna parte. Volete scriverlo in 8 pixel? Fatelo pure, secondo me non leggerà nessuno però. Sugli schermi molto grandi invece l'elemento che ha più peso è la parte relativa alla viewport width. Quindi torniamo al nostro esempio classico quindi in cui abbiamo una RAM, un RAM più 2VW, in questo caso se sono con un display 4K, quindi con una risoluzione di schermo di 3840 pixel, io ho 16 pixel da questo lato e da questa parte ne ho 76 più o meno, 76,8. Per cui in realtà è il secondo elemento che ha molto più peso rispetto al primo. Quindi il problema si verifica quando lo schermo è molto grande e dipende essenzialmente dal fattore di scala, questo da questo 2, questo coefficiente che mi va a moltiplicare la viewport width. Quindi i problemi sono sulle cose molto piccole e sulle cose molto grandi. Cosa ci aiuta? Un'altra funzione CSS, clamp. Clamp mi va a bloccare un valore intermedio all'interno di un intervallo di valori compresi tra un limite minimo e un limite massimo. È una funzione che mi richiede tre parametri, un valore minimo, che è il primo, in questo caso un RAM, un valore intermedio 2.5VW e un valore massimo 2RAM. Come funziona? Esempietto con una tabellina. In sostanza io ho diverse viewport width nella prima colonna e vado a calcolarmi il valore preferito che è uguale sostanzialmente al 2,5% della viewport. Dopodiché vado a vedermi se il valore preferito è al di sotto di 16 pixel, cioè di un RAM, allora mi prendo 16 pixel. Se sono al di sopra di 32 pixel, quindi al di sopra di 2RAM mi prendo 32 pixel. In mezzo ho effettivamente tipografia fluida, per cui posso andare a un valore che aumenta in maniera lineare. E questo è quello che succede. Ho un valore minimo qui, aumenta e un valore massimo. Se non avessi, se non andassi a utilizzare clamp avrei questa linea qui lunga che va da zero fino all'infinito. Combiniamo le due cose. Quindi combiniamo calc da un lato e clamp dall'altro. Quando riuscirò ad ottenere una soluzione che funziona? Se io vado a individuare, dato un certo valore preferito, quali sono i valori di min e di max che mi vanno bene. Come si fa? Rivediamo un attimo questa formula qui. Quindi abbiamo la font size che è uguale a calc di un RAM più 2VW. È una funzione sostanzialmente in cui la font size dipende da R, che è un fattore di scala dell'elemento radice, K, che è un fattore di scala della larghezza dello schermo e la larghezza dello schermo. Faccio zoom. Cosa succede? Ho una z in più, una dipendenza in più dallo zoom, che divide la viewport width da questo lato e vado a rimoltiplicarlo dall'altro tutto quanto. Quando questa cosa funziona? Questa cosa funziona quando io posso fare zoom a sufficienza perché la dimensione del carattere raddoppi. Siccome lo zoom massimo è del 500%, Z diventa uguale a 5 e quindi devo fare in modo in sostanza che facendo lo zoom del 500%, che è questa prima cosa qui in alto, io ottengo una dimensione del carattere che è più del doppio di questa cosa che c'è qui in basso. È una disequazione di primo grado, seconda superiore, chiedete a cugini, figli, nipoti, dovrebbe riuscire a risolverle e a tirarvi fuori che la viewport width max massima sostanzialmente deve essere minore o uguale a 4800 pixel per il fattore di scala dell'elemento radice diviso il fattore di scala della viewport. Vediamo un esempio, quindi abbiamo calc di un rem più 2vw, f uguale a r per 16 pixel più k diviso 100 per v, r uguale a 1, k uguale a 2, v deve essere minore o uguale di 4800 pixel per 1 diviso 2, 2400 pixel. Se sono al di sotto di 2400 pixel come viewport width sono a posto, sopra non posso andare. Cosa faccio? Clampo e quindi mi imposto un valore massimo del font che è uguale alla dimensione preferita in corrispondenza della viewport width massima e mi salta fuori 4 rem. Per andare a decidere il valore minimo io mi appoggio a un altro criterio delle vcag che fa riferimento a una larghezza dello schermo di 320 pixel. Per cui imposto una larghezza dello schermo di 320 pixel e mi vado a vedere qual è la font size. Vado a sostituirmi i valori semplicemente in corrispondenza di una view uguale a 320 pixel e mi salta fuori che la dimensione minima del carattere deve essere uguale, deve essere maggiore o uguale a 22,4 pixel. Poi siccome io odio i valori con le virgole vado a mettere un valore minimo in realtà che è uguale a 23 pixel, cioè lo arrotondo leggermente e converto in rem ovviamente perché i pixel non si usano. Fatto! Quindi io volevo avere una font size che era uguale a un rem più due viewport width, il valore minimo è quello, il valore massimo è quello, questa è la mia font size e in questa maniera io sono sicuro che sia tutto accessibile. Non oso chiedere se è tutto chiaro ma andiamo avanti. Passiamo a vedere che cosa succede nell'editora blocchi in realtà. Nell'editora del blocchi noi possiamo andare a selezionare le dimensioni del carattere sostanzialmente andando a gire o a livello di editor articoli in questa parte qua in cui mi parla di tipografia e posso andarmi ad esempio a definire la dimensione utilizzando le dimensioni predefinite del mio tema, in questo caso sto utilizzando il tema predefinito 2023, o posso farlo a livello di site editor per cui anche qui in questo caso mi vado a definire qual è la dimensione predefinita del testo e in questo caso è la dimensione media. Prima grande notizia, la tipografia fluida di default è disattivata nell'editora blocchi, per cui dovete andare a attivarla manualmente o meglio deve essere il tema che ve la va a attivare. Se voi avete la tipografia fluida disattivata avrete di default 4 font size, small 13 pixel, medium 20 pixel, large 36 pixel e extra large 42 pixel. Voglio fare tipografia fluida. Vado a attivarmela. Questo è un estratto sostanzialmente di un file theme.json e è necessario passare attraverso il file theme.json per poter andare a attivare la tipografia fluida. Semplicemente all'interno dei settings, nella sezione typography, io vado a mettermi un attributo fluid true. Attivo la tipografia fluida. Nel momento in cui attivo la tipografia fluida, bam, immediatamente le mie dimensioni predefinite passano dal valore statico, 13, 20, 36, 32 pixel che avevo prima, a questi oggetti qui. Abbiamo 13 pixel che resta fisso sullo small, dopo vedremo perché, e gli altri invece che vengono queste simpatiche formuline che vanno così. Questo sistema è accessibile? Qualcuno ha delle idee? Vi siete persi alla slide numero 4 però se non sapete rispondere. No, perché? Pixel, giusto? Non c'è premio, continua a non esserci premio neanche per questa cosa. Il problema è che continuo a usare i pixel, per cui di per sé la tipografia di default non funziona. Per cui devo sempre andare a ridefinirmi sostanzialmente le font size utilizzando i RAM. In quel caso vediamo cosa succede. Quello che posso fare una volta che ho attivato a livello globale la tipografia fluida comunque è andare eventualmente a disattivarmi la tipografia fluida su determinate font size. Ad esempio voglio che la mia font size medium sia uguale a 1.25 RAM senza essere fluida, va bene, lo faccio, vado semplicemente a andarmi ad aggiungere un attributo fluid false all'interno della mia font size specifica. Quando io attivo la tipografia fluida ho la possibilità di andare ad aggiungere alle singole font size che io mi definisco all'interno del theme.json dei valori fluid che sono min e max. Posso farlo, non è obbligatorio farlo, se non lo fate lui andrà a calcolarsi automaticamente i valori in una certa maniera. Ci arriviamo. Quello che dovete fare sempre e comunque però è andare a definire size. Se voi non definite size sostanzialmente salta tutto. Un'altra cosa che potete andare a fare per attivare la tipografia fluida è andare a impostare come valore di fluid all'interno di typography, quindi a livello globale per modo di dire, una min font size che di default è 14 pixel. Questa è stata una modifica che è stata aggiunta nella versione 6.2 di WordPress perché nella versione 6.1 quel valore lì di 14 pixel era fisso e non modificabile. Adesso invece si può andare a modificare in questo modo qua. Se io ho una min font size di 14 pixel e vado a impostarmi una dimensione che è sotto la min font size, la mia font size non sarà fluida, per cui sarà fissa e pari a 13 pixel. E se vi ricordate è esattamente quello che abbiamo visto nella slide precedente. Torniamo un attimo sul concentro di clamp. Noi prima abbiamo detto che io andavo a clampare il valore effettivo, il mio valore preferito, all'interno di un valore minimo di font size e di un valore massimo. Ma io posso andare a vedere questa cosa anche come un clamp della font size tra un valore minimo della viewport width e un valore massimo della viewport width, che è esattamente il sistema con cui Gutenberg va a calcolare le font sizes. Cioè io quando vado a mettere all'interno di un font size di definire il valore minimo e il valore massimo, questo valore minimo che io definisco è definito in corrispondenza di una viewport di 768 pixel, cioè 48 rem, e il massimo è il valore della dimensione in corrispondenza di una viewport di 1600 pixel, cioè 100 rem. Detto questo io ho tutti gli ingredienti per fare i miei conti. Come si va a calcolare il font size fluido? Se non vado a definire sia il valore minimo che il valore massimo, quindi se li definisco entrambi non c'è nessun controllo, ma se ne definisco solo uno, vado a fare un confronto di size e a vedere se è minore della min font size. Se size è minore di min font size, font size non è fluido e il valore è pari a size. Ok? Per cui è sempre l'esempio di prima di 13 pixel che è più piccolo di 14 pixel. Se il valore massimo non è impostato, vado a prendermi il valore di size, che è il motivo per cui è sempre necessario andare a definire size all'interno anche della tipografia fluida. Se il valore minimo non è impostato, Gutenberg prende come valore minimo possibile il 75% del valore massimo, per cui tre quarti. Dopodiché, se questo valore che io ottengo è più piccolo di min font size, utilizzo come valore minimo effettivo min font size. Altrimenti mi utilizzo il valore calcolato che è i tre quarti del valore massimo. Fine. Ad esempio, se io mi vado a impostare una size di 2 rem, il valore massimo è 2 rem, il valore minimo è 1.5 rem e automaticamente mi salta fuori questa formula qui di tipografia fluida. In Gutenberg. Se la calcola lui, io mi trovo già il valore pronto per essere utilizzato all'interno dell'editor. Bello, eh? Senza fare gran casino. E quindi questo è effettivamente il risultato che ottengo. Mi vado a clampare tra un valore massimo di 1600 pixel e un valore minimo di 768 a livello di viewport. La domanda è, è accessibile questa cosa? Mi prendo i miei valori, mi faccio i miei conticini e mi salta fuori che la viewport width massima in corrispondenza della quale questa cosa funziona è di 5179 pixel. Quindi qui c'è già scritto che è accessibile, in questo caso qualcuno sa perché? Qua vi siete persi attorno alla slide 45 per cui è ammesso. Perché in realtà la viewport massima in corrispondenza della quale io sto andando a calcolare il valore è di 1600 pixel, che è abbondantemente sotto i 5179. Quindi in questo caso è accessibile. E in generale? in generale siccome di per sé i valori generati da Gutenberg sono definiti tra una viewport minima e una viewport massima, 768 pixel e 1600 pixel, in realtà i soli parametri in gioco sono le font size minima e massima, o quelle che io ho definito o quelle che Gutenberg ha calcolato per me. Faccio un po' di conti, che vi risparmio, e salta fuori che l'unica cosa che conta non è neanche il valore esplicito del valore minimo e del valore massimo, conta soltanto il loro rapporto. Se il rapporto tra il valore minimo e il valore massimo è più grande di 0,48, io in Gutenberg sono sicuro di ottenere un font che è accessibile, o perlomeno che mi rispetta il criterio 1.4.4 delle WCAG. quindi ho parlato per mezz'ora e bastava fare una divisione, non picchiatemi anche perché sarebbe contro il codice di condotta. La triste realtà è che questa cosa sarebbe facile, però ad esempio in 2023 esiste una quinta font size predefinita extra extra large, in cui il valore minimo è 4 rem, il valore massimo è 10 rem, 4 diviso 10, ce la potete fare, 0,4 che è più grande o più piccolo di 0,48? Più piccolo, quindi questa cosa non è accessibile. Peccato, ce l'avevamo quasi fatta. E l'anonimo effettivamente sono io che sono tre anni che sto cercando di capire come funziona esattamente questa cosa. E sono stato nei tempi, è miracolosa questa cosa. Grazie mille. Grazie Stefano. Grazie Stefano. Devo una risposta. C'è una risposta? Ok. Una domanda? Una domanda? Ok, perfetto. Grazie. Nessun'altra domanda? Giacomo, grazie della domanda che non hai fatto comunque. Qualcun'altra domanda? Dubbi? Devo ripetere per la registrazione? Sì, la ripeto io per la registrazione. Le dimensioni minime e massime, tutte queste cose vanno fatte a livello di sim.json. Non c'è modo a livello di interfaccia né dell'editor di articoli né del site editor in realtà, perché queste sono le font sizes sono definite a livello di tema, di andare a definire in questo momento, poi vediamo esattamente Gutenberg in continua evoluzione, vediamo esattamente dove andrà, non c'è possibilità di andare a fare tipografia, di andare a definire questi valori senza utilizzare il sim.json. Provate a usarlo perché per l'appunto, cioè se giocate con questa cosa e se avete il fegato in realtà di andare a guardarvi il codice di Gutenberg, perché tutti questi conti che io ho fatto sostanzialmente saltano fuori dalla lettura praticamente della funzione di calcolo, è divertente perché si capisce esattamente tutto quello che viene fatto. È abbastanza ben documentata in realtà, non è documentata a livello globale ma passo passo in realtà vi viene detto che cosa succede all'interno della funzione per il calcolo della font size fluida. Ti chiami scusa? Ruben, grazie della domanda. Qualcun altro? Abbiamo ancora un micro tempo per una domanda. C'è una domanda? Tutto ciò è applicabile a tutti i browser o ci sono eccezioni? Allora, tendenzialmente, allora io di solito utilizzo per i test, ti chiami scusa? Gabriele. Ah allora, poi hai fatto già la domanda col microfono per cui non c'è problema. Allora, tendenzialmente io faccio i test utilizzando i browser principali, considerando che WordPress ha tolto il supporto a Internet Explorer, un applauso per questa cosa, cioè tolto il fatto che non supportiamo più Internet Explorer, diciamo che i due grossi motori che ci stanno dietro sono quello di Chrome e quello di Firefox. Io di solito testo in Chrome e in Firefox, bisognerebbe testare anche altre cose. In entrambi i browser lo zoom massimo è del 500% e la possibilità di ridimensionare la font size dell'elemento root va fino a 72 pixel, che è 4,5 volte 18 pixel. Per cui in realtà è per quello che io ho sempre utilizzato. Non ho più fatto riferimento alla possibilità di aumentare la dimensione dell'elemento root, perché in realtà la dimensione di font che si riesce a ottenere in quel caso è comunque l'effetto è minore rispetto a quello che si ottiene facendo zoom e l'effetto è quello del 500%. Per cui per l'appunto, da quando Firefox ha portato lo zoom massimo dal 300% al 500%, l'effetto è sostanzialmente lo stesso in tutti i browser. Prima no, e di fatti per un certo periodo di tempo questo era un limite ulteriore in rispetto a questo limite che già c'è. Grazie Stefano. Ancora un applauso a Stefano Minoia. Grazie. 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 Grazie.